Teramo Città Capoluogo 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 centrare questi obiettivi. Ho fatto anche degli esempi personalmente in consiglio dicendo appunto che l'obiettivo principale è il ruolo di Teramo capoluogo, questo si raggiunge con delle azioni specifiche, però non è ben dichiarato, sembra più qualcosa di omnicomprensivo, l'ho definito anche molto parolaio, prolisso, 56 pagine, senza poi arrivare al dunque a dire dunque Teramo su che si gioca il suo futuro. Il sindaco dice sarà il consiglio comunale a decidere, ma come non hai un'idea su quello che vuoi fare visto che dicevamo in premessa che la ASL è così importante e tutti i flussi generati dall'ospedale che è un peso urbanistico notevole, tu nel tuo documento dici sarà il consiglio dopo cinque anni, è ovvio che in questo vuoto dell'amministrazione nei cinque anni passati si sono inserite tante altre idee.